Premo i tasti RESET e TOTAL per entrare nel menu principale. Premo il tasto TOTAL per 3 secondi per passare alle voci successive del menu, fino ad arrivare alla voce della calibrazione. Inizio ad erogare per riempire il recipiente da 2 litri. Premo il tasto TOTAL per 3 secondi per finire l'attività di calibrazione. Premendo il tasto TOTAL brevemente modifico la direzione della freccia su o giù per modificare la quantità virtuale e farla coincidere con la quantità reale. Premo il tasto RESET per diminuire la quantità fino a portarla a coincidere con la quantità virtuale. Premo il tasto TOTAL per 3 secondi per informare che l'attività di calibrazione è terminata. Premo il tasto TOTAL PRACIA